Come si può rifondare la destra? Abbiamo visto che in questi vent'anni qual è stata la difficoltà? Quando ci siamo trovati di fronte ai temi etici, ai temi della bioetica, insomma tu facevi parte del gruppo di Alfredo Mantovano e dicono non ci ritrovavamo mai, io non facevo parte del gruppo di Mantovano ma credevo nelle stesse cose e quindi mi ritrovo facilissimamente quando bisognava decidere se la Englaro tenerla in vita o non tenerla in vita. Per il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Pierpaolo Signore, meglio guardare avanti senza nostalgia. La senatrice, ospite di Open, respinge le accuse di chi vede la due giorni organizzata a Lecce come una riunione nostalgica di combattenti e reduci senza futuro e spiega che si tratta di un'operazione culturale ideata da due storiche riviste di destra per rimettere insieme la destra pura e sociale disciolta nel PDL. Pierpaolo Signore invece è sulla linea Meloni, lasciare il passato alle spalle e premiare il merito. La Poli risponde che la russa è un veterano che ha scelto di togliere un seggio alla Puglia con Fratelli d'Italia e che la ex ministro delle politiche giovanili è stata sempre premiata con incarichi sin da quando aveva 25 anni. Oggi anche a Lecce è partita l'operazione culturale della destra che vuole riaggregarsi ma c'è tanto scetticismo da parte degli ex. Guardo sempre con interesse e rispetto ai dibattiti che si sviluppano nel centro-destra, spiega Congedo. Ma credo che siano da privilegiare sempre i contenuti e non i contenitori. Per quanto mi riguarda la mia adesione al PDL è di convinzione e non di convenienza.